Il partegno del Louvre è uno dei più famosi, scritto dal Cmane di Sardi. È un componimento di lirica corale, proveniente dal papiro ritrovato da Auguste Mariette nel 1855. Si compone di strofe, antistrofe ed epodo. E i metra sono vari, il dimetrotrocaico catalettico, l'enopio, il dimetrotrocaico catalettico, il dimetrotrocaico catalettico, l'enopio, il trimetrotrocaico, il dimetrotrocaico, ripetuto due volte. E anche l'alcmanio catalettico. Erga, ma son, cacamesa menui, estitis siontisis, od olbios hostis euf fron. Ameran diaplechei aclautos egon daeido agidos tofos oro o talion omperamin agido marturetai fainen. E meduten e painen, utem omestaini naclenna coragos, udamos eido che igaremen auta. Ec prepes tos opera aitis, embotois stase ienippon, pagonaite loforon canacapoda, ton lupopetridion onero neuc oreis, omen celes eneticos adecaita, tas emas anepsias agesicoras epantei, cruzos hu aceratos, ton ta griurion prosopon. Diafadanti toi lego, agesicora menauta, adedeuterà pedagido toveidos. Ippos ibenoi colaxaios drametai, tai peleades garomin, or triarai faros ferroises nucta di ambrosian ateserion, astron averomenai macontai. Ute garti pofluras, tossos coros ostamiunei, utepoicilos lacon, paclusios ude mitra, ludia neanidon, ianogle faron agalma, utetai nannos comai, alluda reta siedes, ude su la ciste cae glesisiera, udes ainesim brotas en toisa facis, astafis de moi genoito cae potigle poi filulla, damaterate ratate fiantemis, allagesicora me peirei, ugar, acallis fiuros, agesicora parautei, agidoi, arrenei, tosteriatame painei, allatansioi, dexaste siongarana caetelosco corostasis, ve poemi che gomme auta, parsen osmatan apotano lelaca, blaucse gondetaimen aut, menaoti malistain, guandan ennero onongar amin, iator egenton, exagesicoraste neanides, ieneas eratas epeban.